ok più tempo ok ok lei esce cambio una barca la capitana lei è felice giusto no ragazzi cioè veramente non potete capire quanto questa cosa sia stata meravigliosa cioè valso è valso tutto no 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 c'è ora ora leggo la chat vabbè c'è tipo ciao ciao ne no veramente abbiamo fatto